L'acqua per me è un grande pezzo della mia vita, perché tutto che io faccio è praticamente dell'acqua. Mio padre mi ha dato il kite piccolino con due anni, ma faccio kite da solo con cinque. Tutti sbagliamo, dobbiamo sbagliare per imparare. Il punto è se continui a sbagliare, a sbagliare, a sbagliare o fare come non ti dice il padre. Io ero un po' come te, ma con il tempo ho capito quello che dicono i genitori, serve. Io sei, ma nel prossimo, ora in tariffa, io ho dovuto raggiungare, perché se io raggiungo in tariffa, io sono campione mondiale. Mi sento come un uccello, mi piace andare in alto, stare in alto. Quando vici un campionato è una felicità che ti resta per tutta la vita. Da qui voi? Io sono da qui. E di chi? Io sono il figlio del Massimo. Grazie.